Musica Per la costruzione della rete del gas nel bacino di Alghero, Porto Torres e Terralba saranno assunte 50 persone. La ricerca è stata avviata dalla società CPL Concordia che inserirà i lavoratori nei cantieri del nord Sardegna. I lavori dovranno essere avviati quanto prima e l'impresa prevede di attuare le assunzioni nei prossimi 4 mesi. Le figure ricercate sono escavatoristi, autisti con patente C, saldatori in poliettilene, capi cantieri, tecnici di commessa e operai specializzati. Chiunque fosse interessato può presentare la candidatura insieme al curriculum vita sul sito www.cpl.it nella sezione Lavora con noi. Una boccata d'ossigeno per l'occupazione locale mentre gli ambientalisti hanno bocciato il progetto di metanizzazione nell'isola definendo la rete del gas in Sardegna un'opera inutile. Il no arriva dalle associazioni ambientaliste Italia Nostra, WWF e LIPU. Le tre associazioni chiedono di dichiarare l'improcedibilità dell'istanza per la parzialità del progetto in quanto non è stato esaminato l'impatto ambientale cumulativo dell'intera opera della rete metanifera Sarda, oltre che per l'eccessivo costo ambientale richiesto dall'infrastruttura rispetto agli scarsi benefici derivanti dalla comunità e agli obiettivi di riduzione delle emissioni climateranti. La nostra giunta ha lavorato attivamente affinché si procedesse alla conclusione di opere avviate nei precedenti mandati. Queste le parole del primo cittadino Nicola Sanna per rispondere ad alcune accuse mosse nei giorni scorsi sullo stato dell'ex matatoio di Via Zanfarino, l'ex cinema Astra, il parcheggio multipiano del teatro comunale e il nuovo matatoio di Trunco Reale. Molti dei ritardi accumulati negli anni, stando ai dati forniti dal sindaco, sono stati legati a difficoltà economiche delle imprese a cui erano stati affidati i lavori. Per esempio, spiegano una nota sanna, per l'ex matatoio nel maggio 2018 sono stati appaltati gli allestimenti a luglio, sono stati approvati la relazione del responsabile unico del procedimento e il certificato di collaudo dell'intera struttura. I lavori però erano iniziati nel 2008 e in questo periodo hanno subito diversi stop e ritardi fino ad arrivare al 2017, quando la giunta ha deciso di considerare chiuso l'intervento, arrivato a oltre il 90% dell'avanzamento. I collaudatori hanno determinato che per il ritardo nel completamento sia imputabile la dita appaltatrice, una penale da oltre 560.000 euro. Per la realizzazione del nuovo matatoio, nell'aprile 2015, lavori erano stati aggiudicati definitivamente alla dita Cogemat, per un importo di quasi un milione e mezzo di euro. Nel 2016 è stata nominata la Commissione Interna per la verifica del progetto definitivo, a febbraio del 2018 è stata individuata la nuova Commissione Interna per la verifica del progetto esecutivo. L'Ex Cinema Astra nel giugno 2018 sono stati affidati lavori per l'ottenimento certificato di prevenzione incendi, indispensabile per poter effettuare qualsiasi attività teatrale o spettacolo, e all'inizio del giugno 2018 si è certificata la regolare esecuzione della realizzazione di una cabina elettrica al servizio dell'Ex Cinema. Altra opera attesa da tempo è il parcheggio dell'auditorium comunale. Nel luglio 2018 sono stati aggiudicati gli ultimi lavori necessari all'apertura e approvato il progetto esecutivo. Dopo il recesso del contratto a opera dell'appaltatore, l'amministrazione comunale ha proceduto alla nuova giudicazione. E' stato pubblicato il bando dell'Agenzia Nazionale Erasmus per gli studenti e lo staff, con esigenze speciali relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie, immobilità per studio, train ship, attività didattiche, formazione. All'Università di Sassari al momento i finanziamenti sono riservati agli studenti in mobilità ai fini di studio e di tirocinio. Gli studenti interessati dovranno consegnare la modulistica compilata, la documentazione richiesta all'Ufficio Relazioni Internazionali durante gli orari di apertura. Le candidature possono essere rappresentate tra l'11 settembre 2018. I fondi vengono erogati unicamente sotto forma di rimborsi per costi reali, sostenuti dagli studenti con esigenze speciali nel corso della mobilità. Nel caso le richieste siano superiori alla disponibilità di fondi, l'assegnazione sarà fatta sulla base della percentuale di invalidità risultante dal certificato allegato alla candidatura. Non mancano inoltre iniziative anche per lo svago. Ad Alghero, nell'ambito dell'attività di animazione e socializzazione rivolte diversamente abili, l'assessorato Qualità della Vita ha programmato, grazie alla disponibilità del gestore del parco dei divertimenti Matterland, nel porto di Alghero, un pomeriggio all'insegna del divertimento. Giovedì 30 agosto, grazie anche alla collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel territorio. Due anziani ricoverati perché colpiti dalla febbre del nilo occidentale hanno fatto scattare l'allarme del virus in Sardegna. Le conferme sono arrivate dalle analisi condotte dall'Istituto Zoo Profilatico di Sassari che hanno rilevato la positività in un falchetto in quattro cornacchie rinvenute nelle campagne di Oristano, dove è stato anche catturato il nucleo di zanzare responsabile dell'infezione. Per monitorare e contrastare la diffusione della febbre del nilo in provincia di Oristano sono state installate 12 trapole per insetti, 39 quelle presenti sul territorio regionale e vengono effettuate le analisi sulle carcasse dei volatili morti o abbattuti per il piano di depopolamento. Le positività che dovessero essere riscontrate permetteranno di individuare le zone infette. Intanto l'ASL di Oristano ribadisce l'importanza della protezione dalla puntura di zanzare attraverso l'uso di repellenti per gli insetti, l'installazione di zanzariere in casa e l'adozione di tutte quelle precauzioni in modo da evitare i ristagni d'acqua dove trovano il loro habitat naturale e questi insetti. Anche quest'anno la festa patronale della Borgata Sassarese di San Giovanni, organizzata dal Comitato Festeggiamenti San Giovanni Battista, ha portato un grande nome della musica leggera italiana, Antonella Ruggero, protagonista del concerto di sabato scorso. La cantante genovese è nota soprattutto per essere stata la voce e tra i fondatori nel 1975 dei Mattia Bazar. Sul palco ha proposto le canzoni dimenticabili del gruppo, ma anche brani del suo ultimo repertorio e alcune rivisitazioni di classici come Blue Moon e poi Genova con la tradizione di Creusa de Mar. Un ricordo dedicato a coloro che hanno perso tutto sotto e sopra il ponte. La mia città sta vivendo oggi un momento pesante, ha ricordato con commozione. Non poteva mancare la Sardegna con l'Ave Maria della tradizione isolana. In scaletta anche l'Ave Maria di Guno e un'incursione nella Capoverde di Cesaria Epora. La festa patronale di San Giovanni avrà il suo culmine mercoledì 29 agosto, nel giorno del martirio di San Giovanni. Alle 18 donna Alessandro Pilo presiderà la messa, animata dal coro Amici del Canto Sardo, a seguire la processione per le vie della Borgata con la partecipazione della banda Città di Senduri. Ultimo appuntamento con l'archeologia al Museo dell'Ottuonara di Stintino. A concludere la rassegna di studi l'archeologo Martino Manconi, oggetto di discussione della conferenza all'area archeologica di Benezido, nel territorio comunale di Aido Maggiore, di particolare interesse per la presenza di due domus degli Anas, una tomba dei giganti, una necropoli e un villaggio nuragico. Nella presentazione dal titolo L'area archeologica del Nuraghe Benezido nel sistema dei nuraghi tra Borore e Aido Maggiore, l'archeologo Martino Manconi ha presentato alcuni rilevi inediti dei monumenti che fanno parte dell'area. Manconi ha inoltre analizzato il sistema di relazione del Nuraghe Benezido con il paesaggio e con i vicini complessi nuragici, condividendo studie scoperte con il pubblico distintino. Condizioni meteorologiche perfette all'Isola Rossa per il Marinetta Open Day, che ha incoronato il quindicesimo campione della gara di surf più appassionante d'Italia. Al contest supportato da Monster Energy, etapa ufficiale del campionato italiano di surf della federazione Surfing FISV, ha dominato Ramon Taliani, che ha mostrato a tutti una prestazione eccezionale. Secondo a pochissimi centesimi di punto, Alessandro Piwe, terzo campione italiano in carica, Angelo Bonomelli. Cavalloni imbizzarriti di almeno due metri da domare, davanti ad alcune centinaia di persone, di pubblico che hanno applaudito e supportato i 21 atleti che si sono contesi il podio. La premiazione si è tenuta nel quartiere generale dell'associazione Marinetta Bay, con il tradizionale lancio dei gadget offerti dagli sponsor. Al vincitore è spettata anche la doccia di Monster Energy, il drink energetico partner principale dei contest. Si conclude un'altra bellissima edizione. Hanno commentato l'associazione Marinetta Bay, facciamo i nostri complimenti a Ramon, che ha saputo interpretare al meglio le onde, non facili da surfare, e ovviamente a tutti i partecipanti. La Marinetta è diventata in questi anni un punto di riferimento per il surf da onda italiano. La Marinetta è diventata in questi anni un punto di riferimento